I disegni sulle tele bianche prendono pian piano colore, con volti, cuori, caschetti gialli e frasi che richiamano alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Queste opere, create da artisti calabresi, punta il Genoviale della Libertà a Praia Mare per dar vita alla campagna di sensibilizzazione della Guil Calabria in collaborazione con l'Opera Calabria e l'amministrazione comunale di Praia Mare. Così il taglio del nastro dell'area live painting e l'apertura a nuovi mezzi comunicativi efficaci. Ci sono sei artisti calabresi, sei giovani calabresi, che quindi ognuno per quella che è la propria sensibilità in tema di salute e sicurezza sono riusciti ad esprimere al meglio e quindi andremo adesso a premiare. Lo street art per creare un museo a cielo aperto con opere che vogliono puntare riflettori sui rischi dei lavoratori. Si fa arte per testimoniare l'importanza di far arrivare un messaggio a tutti, anche le nuove generazioni che così dipingono, anche le nuove generazioni che ascoltano questa musica, perché soltanto con questa attenzione alla sicurezza sul lavoro davvero la Calabria può ripartire. Linguaggi artistici per rafforzare il messaggio. Attraverso l'arte riusciamo a sensibilizzare maggiormente rispetto ad un argomento che pur trattandolo in maniera ormai quotidiana continua a non dare gli effetti che noi ci auguriamo e che ospichiamo. Intanto il comune di Praia Mare si candida a ospitare anche altre edizioni come queste. Nessun lavoratore merita di non far ritorno a casa, quindi è stato molto semplice per noi sposare quest'idea che tecnicamente è della Will. C'è stata proposta, noi abbiamo messo a disposizione quello che ci è stato chiesto. Speriamo che sia la prima.